Musica Frontale tra due auto a camminate di Fano, morto un 49enne originario di Napoli Ancora frane i disagi causati dal maltempo, chiusa la provinciale 60, esondato il torrente Arzil Il quartiere Poderino di Fano sta morendo, qui chiudono anche i negozi, protestano i residenti Non c'è un battito da perdere, il corso formativo di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore organizzato dall'amministrazione comunale di Colli al Metau Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia Edizione che si apre con il tragico incidente mortale che si è verificato questa mattina a camminate di Fano Nel quale ha perso la vita un 49enne originario di Napoli, ferito anche un 63enne Vediamo il servizio di Letizia Marchionni Tragedia lungo la strada comunale di Caminate a Fano, dove oggi, intorno alle 12.30, Massimo Pastore, 49 anni, originario di Napoli Ha perso la vita a seguito di un incidente stradale Secondo i primi rilievi, il 49enne, alla guida di una C1 bianca, stava percorrendo la strada comunale di Caminate in direzione Fano quando nel fare una curva avrebbe perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta dove nel mentre stava sopraggiungendo una panda di colore nero con a bordo Claudio Isabettini, 63enne del posto L'urto tra le due auto è stato talmente violento che la C1, a seguito dell'impatto, ha ruotato di 180 gradi posizionandosi con la parte frontale in direzione Caminate Al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne, morto sul colpo mentre il 63enne è stato trasportato al pronto soccorso di Pesaro e secondo le prime informazioni avrebbe riportato almeno una frattura Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e per la regolamentazione del traffico e di vigili del fuoco di Fano E adesso il maltempo, maltempo per dirvi che anche questa mattina ci sono stati disagi soprattutto lungo le strade in particolare nella zona di Santa Maria dell'Arzilla e a Candelara dove la provinciale 60 è stata chiusa al traffico per circa due ore Angelica Panzieri Il maltempo continua a colpire il nostro territorio con le strade che si tramutano in torrenti a causa della pioggia Un'altra bomba d'acqua piovuta dal cielo durante la notte ha provocato danni nelle zone dell'entroterra a Pesarese con smottamenti e fango soprattutto a Candelara, Santa Maria dell'Arzilla, Novilara e Trebbia Antico dove è caduto anche qualche ramo sulla carreggiata stradale I problemi maggiori si sono verificati nella strada provinciale 32 a Santa Maria dell'Arzilla invasa da una quantità innumerevole di fango e ghiaia sull'asfalto con allagamenti e un principio di frana a valle tanto da rendere necessario il transito per alcune ore a senso unico alternato Qui gli uomini della provincia, assieme alle ditte specializzate, vigili del fuoco, polizia provinciale, carabinieri di Pesaro e non Baroccio hanno lavorato senza sosta dalle prime ore del mattino per permettere il ripristino della viabilità La strada è stata più volte ripulita per il continuo verificarsi di bombe d'acqua localizzate su quella zona Grossi disagi anche a Candelara dove la strada provinciale 60 questa mattina è rimasta chiusa al traffico per due ore a causa della presenza di una frana sul tratto iniziale del trebbio della sconfitta Solo grazie all'intervento degli uomini della provincia che hanno lavorato sul posto per diverse ore una volta rimosse piante e terra dalla carreggiata il tratto è stato riaperto alla circolazione Altri interventi per allagamenti hanno riguardato nella serata di martedì le strade provinciali 34 Colbordolo, la 73 Ponte Vecchio e la 45 Carignano Quello che si è abbattuto questa notte su Pesaro e zone limitrofe è stato un temporale molto intenso Dalle tre e mezza alle cinque e mezza sono caduti oltre 75 millimetri di pioggia Ed è bene continuare a prestare la massima attenzione perché l'allerta meteo della protezione civile durerà fino alla mezzanotte di oggi Non sappiamo se quello che stiamo per vedere è l'effetto del maltempo oppure no Ma fatto sta che i nostri reporter di strada questa mattina hanno pubblicato sulla pagina, sul nostro gruppo Facebook Queste appunto immagini che riguardano il canale Albani e un'alta concentrazione come vedete di schiuma, di detergenti Almeno così sembrerebbe Siamo all'altezza della darsena borghese, non è la prima volta che succede Tra le possibili cause, fanno sapere gli esperti, potrebbe esserci anche quella di uno scarico delle acque meteoriche Solite a creare questo tipo di fenomeno oppure quello delle acque reflue urbane La presenza delle bolle di schiuma ha incuriosito molti passanti che appunto hanno postato sul nostro gruppo E inviato queste segnalazioni chiedendosi appunto di che cosa si trattasse Mentre per via del maltempo questa mattina intorno alle 10 è esondato il torrente Arzilla Creando non pochi disagi a residenti e turisti E' successo tutto nel giro di un quarto d'ora, intorno alle 10 di questa mattina Il torrente dell'Arzilla che sfocia in mare a Fano è straripato a causa dell'abbondante pioggia Allagando il sottopasso di fronte al baretto Un fenomeno ormai noto per il titolare di quell'attività Ma anche ai cittadini fanesi costretti ogni volta che piove abbondantemente A dover fare i conti con l'allagamento di quel tratto E non sono mancati disagi, soprattutto per i turisti che stavano andando al mare Impossibilitati così a raggiungere la spiaggia Qualcuno ci ha provato lo stesso, si è tolto i sandali E ha attraversato il sottopasso scalzo Sebbene l'acqua fosse marrone ed emanasse un odore non proprio gradevole Altri che provenivano invece dalla ciclabile di Pesaro Hanno preferito tornare indietro costretti a fare il giro largo Per poi rimettersi sulla statale Uno dei primi ad intervenire in soccorso dei passanti È stato lo stesso titolare del baretto Ormai abituato alle esondazioni del torrente Dal fiumiciatolo piccolino a una montagna d'acqua Ed è uscita anche dagli argini Chiaramente come succede tutte le volte Però questa volta era bella carica ed è arrivata fino a quasi al baretto Fino alla nuova strada rossa che hanno fatto Abbiamo cercato di fare una piccola passerella con il legno Per la gente che arrivava dalla zona, dalla sbarra Che però non è servita niente perché nel giro di dieci minuti è stata sommersa praticamente Ho provato ad aiutare i turi e mi ha sentito un po' di malcontento Per chi stava cercando di raggiungere la spiaggia Per chi stava cercando di raggiungere la spiaggia Soprattutto ho visto anche qualche persona con qualche handicap Quello lì, soprattutto i disagi sono stati quelli Dopo i ragazzi sono passati in mezzo a piedi Ma comunque non è una grande cosa perché comunque l'acqua butta una puzza terribile Oltre al colore che proprio non è trasparente da acqua di Sardegna Però è così E come se non bastasse la ciliegina finale sulla torta È stato lo spettacolo che il mare ha regalato per tutto il pomeriggio A cittadini e turisti Acqua marrone e maleodorante Nonché un mix di sabbie e fango Il consueto aggiornamento adesso invece del Covid Tra le nuove diagnosi positive registrate nelle ultime 24 ore nelle Marche Sono 259, 47 nella provincia di Peso Rubino In testa per numero di contagi c'è la provincia di Ancona Con 67 nuovi casi Salgono i ricoveri negli ospedali della regione Che arrivano ad un totale di 78 Più 12 rispetto a ieri Cresce anche il numero di pazienti Sia in terapia intensiva che in semi-intensiva Ad oggi non ci sono però decessi legati al Covid E adesso invece trasferiamoci in un quartiere di Fano Il Poderino Il Poderino che a detta dei residenti sta letteralmente morendo Chiudono anche i negozi Chi ci tutela noi? Chi? 80 anni 80 anni Abita nel quartiere di Poderino a Fano da pochi anni Ma tanto sono bastati per fargli notare la radicale trasformazione che lo stesso quartiere ha subito negli ultimi tempi Lui è Vittorio Meloni Ha 80 anni E' una cosa di cui non si capacita ancora C'è A Poderino sono venuti a mancare tutti i servizi Spiega ai microfoni di Fano TV Soprattutto quello dei medici di base Non ce n'è uno in tutto il quartiere E poi numerosi negozi che hanno chiuso e che costringono gli stessi abitanti della zona Anziani per la maggior parte A doversi recare altrove per fare la spesa Non c'è un medico di famiglia Capito? Questo grande diciamo rione Non c'è un medico Poi I pochi negozi che c'erano Alimentari Macelleria Rosticceria Non ci sono più Sono andati via Il quartiere sta subendo appunto una trasformazione alquanto negativa Quando sono venuto qua ho detto Ah che bello, che bello, che bello Invece non è così Non ci sono parcheggi adeguati Non sono sufficienti La popolazione stanziale La popolazione che abita qui da tanti, tanti anni Si è invecchiata Allora cosa deve fare? C'è una signora abbastanza giovane Che accompagna me o mia moglie A seconda a fare la spesa E già questa qui sono fortunato Perché me lo posso permettere Quindi vado in un negozio Vado in un altro Quelli che sono un pochino fuori E qui non ci sono Quindi Ci sentiamo fortunati Perché ci aiuta questa ragazza Lui che è una persona fragile Non ci sta a dover assistere alla morte del quartiere in questo modo E lancia così un appello al comune Voglio chiedere quello che manca Prima di tutto I medici Perché per i medici è importante Queste persone anziane Non possono girare A giracchiare Devono trovare un medico qui Sul posto Perché qui abbiamo anche la farmacia Se il medico è qui Lavora anche di più la farmacia Sono delle volte Bisogna ordinare E tornarci il giorno dopo Rifiuti che prendono fuoco All'interno del camion Della spazzatura È successo A distanza di poche settimane Dall'ultimo caso Anche questa mattina Intorno alle 8.30 Come vedete da questa fotografia Alla Codma di Fano Si è alzata da questo cassone Del camion dell'Aset Che stava raccogliendo i rifiuti Una nube di fumo bianca Il conducente del mezzo Fortunatamente si è subito accorto E ha provveduto a scaricare Tutto sul piazzale del centro Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco di Fano Che poi in pochissimo tempo Hanno provveduto a spegnere le fiamme Intanto la regione Marche Invece sta concludendo La procedura per l'acquisto Di 500 tamponi salivari Proprio per monitorare E limitare la diffusione Del covid nelle scuole A farlo sapere è stato L'assessore alla sanità Della regione Filippo Saltamartini Che insieme all'assessore All'istruzione Giorgia Latini Ha già incontrato Alcuni rappresentanti Dei comitati di presidi E docenti Nati per difendere La libera scelta vaccinale Tra i temi trattati La possibilità appunto Attraverso i tamponi salivari Di isolare possibili casi positivi Garantendo però La continuità del ciclo scolastico E poi quella di avviare Progetti sperimentali Di prevenzione Salvare la vita A chi si sente male È l'obiettivo di Colli Al Metauro Cardioprotetta Non c'è un battito da perdere È un corso formativo Di rianimazione cardiopolmonare Con tanto di defibrillatore Organizzato dall'amministrazione comunale Si chiama Colli Al Metauro Cardioprotetta Non c'è un battito da perdere Ed è il percorso formativo Organizzato dall'amministrazione comunale In grado di garantire Sul territorio di competenza I donne possibilità Di defibrillazione precoce Ai cittadini infartuati Che ne presentassero la necessità Grazie a interventi Di primo soccorso Eseguiti tempestivamente In maniera competente e sicura Da altri cittadini Idoneamente formati Per i corsi gratuiti di rianimazione Cardiopolmonare con defibrillatore Svolti dall'associazione fanese Formiamoci E che si terranno in data e sede da comunicare Sono disponibili circa 40 posti Le recenti donazioni di due defibrillatori Ad opera della BCC del Metauro E della BCC di Fano Che vanno ad implementare L'altro defibrillatore già presente Sul territorio comunale di Villanova Hanno dato alla nostra amministrazione Lo spunto per dare la possibilità Ad un nutrito gruppo di cittadini Di poter frequentare gratuitamente Un corso per la riabilitazione cardiopolmonare Con defibrillatore Il progetto è stato redatto Dalla nostra amministrazione comunale In collaborazione con la protezione civile Di Colli al Metauro Che ringrazio E prevede sia degli obiettivi a breve termine Come la formazione dei volontari Del gruppo comunale di protezione civile E parallelamente Appunto la formazione di cittadini In base ad un calendario Che verrà prestabilito La scadenza per le domande È fissata al 26 Però invito tutti i cittadini Che siano interessati a questa proposta A farsi presenti in comune Per chiedere informazioni Oltre al 75% degli arresti cardiaci Avviene in ambiente extra ospedaliero E nella maggior parte dei casi Sono letali Per questo motivo L'attivazione precoce Delle manovre di rianimazione cardiopolmonare E di defibrillazione cardiaca È fondamentale Per aumentare la possibilità Di sopravvivenza In maniera esponenziale Rispetto alla tempestività Degli interventi Coloro che vogliono partecipare Potranno inviare una mail All'indirizzo In sovraimpressione È importante Avere queste competenze Per poter essere davvero utili In caso di necessità Con i defibrillatori Si possono salvare vite umane E noi abbiamo questi apparecchi Sul territorio Dobbiamo essere assolutamente in grado Di farli usare Sulla pagina Facebook Di Colli al Metauro È presente un post specifico Dove troverete tutte le indicazioni E le informazioni Relativamente all'argomento Parliamo di Afghanistan Si chiama Tommaso Claudi Ed è l'unico diplomatico italiano Rimasto a Kabul Impegnato da giorni Nelle operazioni di evacuazione Della capitale afghana Claudi È originario di Camerino Desidero rivolgere al console Ha scritto il presidente Della regione Marche Francesco Acquaroli In una nota diffusa sui social Il grazie dell'intera comunità marchigiana Che sta rendendo orgogliosa Agli occhi del mondo Era questa l'ultima notizia Del nostro telegiornale Subito dopo di noi Le previsioni del tempo La pubblicità L'informazione in diretta Torna domani mattina alle 7 Con occhio ai giornali Condotta da Massimo Foghetti Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti